Una futura alleanza con una parte del Movimento 5 Stelle? Guardi, noi stiamo sostenendo un governo che è impegnato in un'azione difficile ma necessaria. Una grande forza politica deve essere chiara con i cittadini, con gli elettori e noi lo siamo, quindi questa è la nostra scelta. Se si dovesse prospettare una maggioranza alternativa con Berlusconi, dovesse ritirare il suo appoggio al governo con una maggioranza alternativa con i grillini? Questa è una condizionale di terzo tipo e quindi è inutile ragionare di ipotesi molto astratte, quindi noi sosteniamo questo governo, chiediamo che faccia di più perché questo è corretto che una forza politica incalzi intelligentemente l'azione del governo e naturalmente capiamo che i problemi del paese sono davvero molto pesanti. Quello che è avvenuto ieri nel Movimento 5 Stelle invece chiede se è fatto. Guardi, io vedo che c'è una grande discussione interna, ci sono misure prese nei confronti di chi ha espresso delle critiche. Io rispetto sempre la discussione delle altre formazioni politiche, difendo anche la libertà di pensiero e di critica. Una foto.